La morale, nel senso dell'etica, non è qualcosa di secondario, di accessorio per la pratica. Abbiamo bisogno di prestarci molta attenzione. Prestare molta attenzione alla morale però non significa diventare moralisti. Grazie. Vi leggo il post che avevo fatto io, che era meditato e riletto. Rifletta esattamente il mio pensiero. Io non sono certo che il mio pensiero sia del tutto conforme all'insegnamento del Buddha, ma è un pensiero che cerca di conformarsi al meglio delle sue possibilità. Vi leggo, quindi. Io credo che su un tema controverso come quello dell'aborto, perché questo era il tema in discussione, ognuno abbia il diritto di intrattenere le proprie opinioni. Sull'aborto, personalmente, constato, leggendo le statistiche, che la legge 194, fin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, ha fatto costantemente diminuire agli aborti. Perciò sono pragmaticamente contrario alla sua abolizione o revisione. Anche se le mie convinzioni, chiamiamole pure religiose, vanno nell'altra direzione. Come Norberto Bobbio, compianto filosofo della politica, penso che si tratti dello stesso diritto in nome del quale io sono contrario alla pena di morte. Si può parlare di depenalizzazione dell'aborto, ma non si può essere moralmente indifferenti di fronte all'aborto. Come Pasolini, traccio un distinguo tra la persona morale che dice di no a se stesso e il moralista che dice di no agli altri. Personalmente aspiro a collocarmi nella prima categoria e non nella seconda. E avendo ormai 70 anni, credo che queste opinioni non cambieranno, almeno in questa vita. Noi sappiamo che il primo, intendo proprio dire il primo, precetto, che un praticante che voglia definirsi buddista è caldamente invitato ad osservare è la non-violenza. Il nostro scopo come buddhisti è di portare più felicità nel mondo a tutte le persone, agli animali, alle piante. E quindi la prima cosa è rispettare la vita di tutti questi esseri senzietti. Per noi buddhisti non è un progetto negoziabile. Fortunatamente è una cosa che si applica a noi. Cioè, come ho spesso detto, non c'è una sharia buddista. Se ci fosse, i buddhisti potrebbero essere tentati di voler imporre la loro etica agli altri, ma sarebbe sbagliato. Il Buddha non volle mai imporre un'etica. Il Buddha, semplicemente, quando gli chiedevano come comportarsi, lui diceva, beh, io mi comporto così, vedete voi. E in questo io mi comporto così, le due cose principali, mi astengo dalla violenza, mi astengo dalla bugia, dalla menzogna. Questi sono assolutamente i primi due pilastri, i primi due punti di riferimento, le prime due stelle in cielo che un praticante avrebbe bisogno di guardare per vedere se va nella direzione giusta. Non c'è un'opinione buddista giusta. C'è un comportamento buddista giusto. Allora, se per difendere la mia opinione, che ritengo giusta, divento villano, divento insolente, divento irriguardoso, irrispettoso e molesto, non mi sto comportando in quel frangente da praticante buddista. Vorrei che questo fosse chiaro. Non ci sono verità de fide da difendere, lancia e la resta in tornei di singolar tenzone. Assolutamente no. L'importante è che noi siamo coscienti degli nostri impegni etici. Io credo che sia abbastanza facile da comprendere. Come mi comporto io è la mia norma, non la norma che io voglio imporre a tutti gli altri. non la imporrei neanche a... non la impongo, non l'ho imposta a mia figlia, non l'ho imposta a nessuno. Se il mio comportamento è stato corretto, è stato all'altezza, è stato visto. ed è tutto questo, tutto quello che io posso fare per diffondere i principi del Dharma. Non si tratta di andare a suonare in gran cassa, si tratta semplicemente di metterli in atto. Il buddismo, più di tutte le altre, è una religione praticata e non predicata. Noi possiamo fornire informazioni, possiamo dare consigli, possiamo dire qual è il nostro punto di vista, ma non diamo norme agli altri. Le norme le assumiamo noi ed è per questo che all'inizio di ogni sessione noi, dopo il saluto al Buddha, dopo i tre rifugi, ci ricordiamo quali sono i nostri impegni etici. Questi cinque impegni etici che recitiamo ogni volta sono il minimo sindacale di un praticante. Senza quegli impegni etici non sia praticante. La nostra pratica è Shila, Samadhi e Pagna. Shila vuol dire etica, vuol dire comportamento. E quando si dice Shila, Samadhi e Pagna significa comportamento, pratica dell'attenzione e infine sviluppo della saggezza intrinseca. Questa saggezza che si sviluppa non perché leggiamo dei libri, ma perché applichiamo la nostra attenzione alla nostra vita. Quindi Shila, Samadhi e Pagna implica un impegno che riguarda tutta la nostra vita. non solo quando siamo seduti sul tappetino o quando entriamo nel centro di meditazione o accendiamo il computer per questo webinar. Si suppone, se almeno si sarebbe la cosa vera, la cosa sarebbe vera se veniamo qui avendo alle spalle la pratica e non per praticare qui. Qui ci sosteniamo, qui ci diamo incoraggiamento, siamo un po' come chiaccolisti anonimi, abbiamo bisogno di incontrare i nostri compagni di viaggio e di sostenerci vicenevolmente nella pratica. Ma se la nostra vita non cambia, la nostra meditazione è solo una facciata. Cerchiamo di evitare questa cosa di essere come dice il Vangelo dei sepolcheri biancati. Non è una cosa che riguardi una religione più di un'altra. Riguarda tutte le religioni. Si dà, in tutte le religioni si dà più importanza ai riti, ai rituali, alla fede, alla lettura delle scritture, ai canti e tutte le cose. Ciò che è realmente la pratica vuol dire avere un comportamento il più corretto possibile nei confronti di noi stessi e nei confronti degli altri. Credo di avervi già raccontato questo episodio che avvenne durante i miei viaggi in India. viaggiavo, ero insieme a mia moglie, ci eravamo già sposati, sì, e viaggiavamo su un treno da credo che fosse da Maiso, andavamo verso Madras. vederla sulla carta geografica, sì, non è una tratta breve, ma nemmeno lunghissima, una cosa tipo Milano-Hamburgo, ma ci mettemmo tutta la notte, quasi tutto il giorno successivo per arrivare in questo lentissimo treno indiano che ha uno scartamento diverso da quello nostro. Al mattino usci dallo scompartimento e vedi quest'alba sul mentre il treno viaggiava nelle pianure dell'interno, queste pianure bruciate dal sole, c'erano degli avvoltori che si avventavano su una carcassa, vedi il sole che stava sorgendo, questa enorme palla rossa come la si vede ai tropici, c'erano degli alberi un po' rinsecchiti, altri avvoltori che stavano appollaiati sugli alberi e dal scompartimento vicino veniva una salmodia molto gradevole, era la recitazione del gaiatri mantra che forse qualcuno di voi conosce. C'era un religioso, un bravino che stava recettando, stava facendo le sue devozioni mattutine. E poi ricominciavo da capo perché lo devono ripetere 108 volte. io ero lì sentivo questa gradevolissima salmodia con c'era un profumo d'incenso che probabilmente aveva acceso nella sua scompartimento questo bravino e vedevo questo paesaggio ed era per me è stato quasi un momento di estra che bello sono in India. Allora a un certo punto la salmodia finì la porta si aprì e uscì questo bravino nel corridoio c'era una persona che dormiva chi è stato in India sa che non è cosa infrequente però era abbastanza infrequente che questo qui fosse in prima classe però io non ci avevo fatto molto caso c'era un uomo che dormiva nel corridoio del treno la prima cosa che fece questo bravino dopo aver recitato tutto devotamente tutto il suo gaiatri fu di prendere a calci quell'uomo che era il suo servo e impartirgli seccamente degli ordini perché gli preparasse il tè eccetera eccetera a me fu un po' come se cadesse tutta la poesia anzi cioè non potei notare non notare la contraddizione ma dove è finita tutta la tua religione no? e devo averlo guardato con un'aria talmente con gli occhi talmente carichi non so di che cosa di rabbia credo che questo si spaventò e si è chiuso dentro il suo scompartimento ci credete che da allora non riesco più a sentire il gaiatri senza pensare che quello che lo canta no? è un impostore posso dire e questo purtroppo però avviene con tante preghiere che sono bellissime in sé ma dipende da dipende poi da che cos'è qual è il contorno cioè la vita delle persone che le recitano si può recitare il padre nostro è una bellissima preghiera ma la vita di chi lo recita è poi l'altezza di questa preghiera a me non pare propria non per tutti perlomeno si tratta di una sparuta minoranza che esercita un lodevole sforzo per essere all'altezza dei principi che almeno sostiene di aver abbracciato se non io io credo che questo proprio questa osservazione si trovi nel Vangelo leggendo il Vangelo si ha proprio l'impressione che Gesù non potesse sopportare questi impostori e il paradosso ha voluto che in suo nome sono arrivati degli altri impostori e così il cerchio continua non crediate che noi buddisti ne andiamo esenti tutt'altro perciò siccome molti si proporranno come guide spirituali come maestri illuminati eccetera voi non state a sentire quello che dicono ma osservate attentamente quello che fanno bene un'altra volta un po' di giorni fa abbiamo visto che Pindola Baradvagia è arrivato in questa città che si chiama Cosambi la famosa Cosambi molto citata nel canone si era messa in un parco a meditare e in quel parco c'era un signore un signorotto locale che era dato lì anche lui per prendere il fresco insieme alle sue cortigiane alle sue mogli dopo aver mangiato bevuto e tutto il resto questo signorotto si era addormentato mentre le donne andando in giro vederò Pindola Baradvagia e si sedettero intorno a lui per farsi spiegare il Dharma poi il signorotto si infurirò ci fu un po' di discussione animata solo da parte del signorotto Pindola rimase nel suo aplomb da Arahant e l'episodio finì bene perché il signorotto si convinse che effettivamente Pindola era un santuomo e questo favorì il suo inserimento a Cosambi e favorì la sua divulgazione del Dharma qui continuiamo questo racconto alcuni giorni dopo in questo vediamo se riesco a metterlo qui a vederci alcuni giorni dopo Ujana che era il signorotto si recò a far visita a Pindola nel suo ritiro in mezzo alla foresta e lo interrogò Onorato Maestro Come possono i discepoli del Buddha mantenersi puri di corpo e di spirito senza credere alle cedere alle tentazioni della cupidigia malgrado la giovane età della maggior parte di loro Pindola Nobile Signore il Buddha ci ha insegnato a rispettare ogni donna ossia considerare le donne anziane come nostre madri le donne della nostra età come sorelle e tutte le più giovani come figlie ecco perché i discepoli del Buddha pur in piena gioventù conservano la purezza fisica e spirituale ne si lasciano tentare dal desiderio carnale eppure qui è il signor Otto che parla onorato maestro si possono ben avere pensieri impuri anche per le donne dell'età di una madre il signor Otto conosce il mondo di una sorella o di una figlia in che modo dunque i discepoli del Buddha controllano i loro desideri nobile signore l'illuminato ci ha insegnato a vedere il corpo come fonte di impurità di ogni sorta quali il sangue il pus il sudore o il grasso pensando a questo noi anche se giovani siamo capaci di conservare pure il nostro spirito in realtà non sono solo quattro gli elementi che il Buddha consigliava di guardare sono ben 31 o 32 adesso non ricordo 32 contemplazioni delle cose dell'impurità e della sgradevolezza del corpo una pratica che è molto in uso tra i monaci ma non soltanto io ho potuto constatare che specialmente nello Sri Lanka viene suggerita anche ai laici onorato maestro continuò Udiana sarà facile agire così per voi che tenete in costante esercizio fisico e spirito rendendo smagliante la vostra saggezza sarà però arduo per chi non abbia mai fatto una simile pratica costui avrà un bello sforzarsi a cercare di tenersi lontano dall'impurità i suoi occhi andranno pur sempre dietro alle belle forme avrà un bel tentare di riflettere a quel che è brutto tanto verrà soleticato comunque dalle belle apparenze ci sarà perciò un altro motivo per cui i giovani discepoli del Buddha sono capaci di osservare la purezza delle loro azioni di mantenere la purezza delle loro azioni nobile signore replicò Pindola l'illuminato ci insegna a fare la guardia alle porte dei nostri sensi vedendo con gli occhi belle forme bei colori sentendo con gli occhi dei suoni piacevoli o con il naso dei profumi gustando cibi saporiti con il palato e toccando con le mani oggetti morbidi noi non rimaniamo legati a queste cose attraenti e neppure le rifugiamo non rifugiamo neanche quel che attraente non è abbiamo infatti imparato a controllare con cura le porte dei sensi grazie all'insegnamento del Buddha anche i giovani discepoli sanno conservarsi puri a livello fisico e spirituale in verità l'insegnamento del Buddha è davvero meraviglioso disse Ujana per diretta esperienza so che davanti a cose belle o spiacevoli se non mi controllo vengo turbato dalle impressioni suscitate dai sensi è dunque di un'importanza vitale sorvegliare le porte dei cinque sensi al fine di conservare pure i nostri atti in qualunque situazione a un'azione pur conforme al nostro pensiero segue sempre una reazione a un'ingiuria hai la tentazione di rispondere sullo stesso tono e di prenderti la rivincita guardiamoci guardiamoci sempre da questa reazione automatica è come sputare controvento si colpisce se stessi è come lanciare polvere controvento ci si sporca soltanto la sfortuna perseguita chi non frena il desiderio di vendetta beh io direi che possiamo fermarci qui in questa lettura delle avventure di Pindola Baradwagia per chi non ci fosse stato prima aggiungerò che Pindola Baradwagia è una arahant la cui storia si trova prevalentemente in testi mahaianici io non non posso dire di aver letto tutto il canone assolutamente no però posso dire che nella tradizione mahaianica è un monaco che ha assunto è una figura che ha assunto una certa importanza che non ha invece nella tradizione meridionale del Teravada bene sono ora le 19 cioè le 22 28 e quindi quello che ci resta da fare è solamente concludere la nostra seduta un attimo solo che prendo il testo della Serenity Prayer deve essere qui eccolo qua preghiera della serenità che tutti noi creature viventi dell'infinito universo si possa trovare la serenità per accettare le cose che non possiamo cambiare che si possa trovare la forza e il coraggio per cambiare le cose che si possono cambiare e che si possa trovare la saggezza per distinguere le une dalle altre vivendo un giorno alla volta godendoci un momento per volta accettando le difficoltà della vita come una via per la pace prendendo come fece quel saggio questo mondo imperfetto così com'è non come avremmo voluto che fosse confidando che infine andrà tutto per il meglio se impareremo a lasciare andare in modo da essere ragionevolmente felici in questa vita e ancora più felici in quella avvenire Amen